Questa parte vai! Vieni, devo lanciare un sasso là in mezzo, vai! Un po' almeno di tre minuti, eh! Sessione! No! In mezzo alle mani! Eh! La palla ci può essere! E ora sulla testa! Buone! E ora? E' difficile! Allontano! Ecco la carica! Aveva la carica lì! Sì! 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 Quella tu era vista? Eh! La tua era vista! Sì! 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 Ciao! Ciao! E stoppa, no! No! Hai du! Woo! Woo!